Capitolo 188 della Mezzana India chiamata Nabashi Nabashi si è una grandissima provincia e questa si è la Mezzana India. E sappiate che il maggiore re di questa provincia si è cristiano e tutti gli altri re della provincia si sono sottoposti a lui, i quali sono sei re, tre cristiani e tre saracini. Gli cristiani di questa provincia si hanno tre segnali nel volto. L'uno si è dalla fronte infino a mezzo il naso e uno da catuna gota. E questi segni si fanno con ferro caldo che, poscia che sono battezzati nell'acqua, si fanno questi cotali segni. E fannolo per grande gentilezza e dicono che è compimento di battesimo. Gli saracini si hanno pure uno segnale, il quale si è dalla fronte infino a mezzo il naso. Il re maggiore si dimora nel mezzo della provincia, i saracini si dimorano verso Aden, nella quale contrada Messer Santo Tommaso convertìo molta gente. E sappiate che in questa provincia da Basce si ha molti cavalieri e molta gente da arme, e di ciò fa bene bisogno. In perciò che egli si hanno grande guerra col soldano d'Aden e con quelli di Nubia e con molta altra gente. Or, io sì vi voglio contare una novella che venne al re da Basce quando egli volle andare in pellegrinaggio. Capitolo 189 D'Una novella del re da Basce Ora venne questo vescovo al santo sepolcro come pellegrino, molto orevolmente e con molta bella compagnia. Fatta la reverenza al santo sepolcro che si convenia e fatta l'offerta, sì si misero a ritornare al loro paese. E quando furo giunti a Aden, il soldano l'ebbe saputo chi questo vescovo era, e per dispetto del suo signore sì l'ebbe fatto pigliare, e disseli che volea che egli divenisse saracino. Questo vescovo, sì come santo uomo, disse che non ne farebbe nulla. Allora il soldano si comandò che per forza se gli fosse fatto uno segnale nel volto come si fanno a saracini, e fatto che fue lasciò lo andare. Quando questo vescovo fue guarito, sì che egli poteo cavalcare, sì si mosse a venire, e tornò al suo re. Quando lo re lo vide tornato, sì ne fue molto allegro e domandò del santo sepolcro e di tutte le cose. E quando egli seppe come per suo dispetto il soldano l'avea così concio, si volle morire di dolore, e disse che questa onta vendicherebbe egli bene. Allora si fece il re bandire grandissima oste sopra la provincia d'Aden. Fatto l'apparecchiamento, sì si mosse il re co tutta la gente, e sì fece grandissimo danno al soldano, e uccisero molti saracini. Quando lo re ebbe fatto tutto il danno che fare potea, e che più non potea fare loro danno, né andare non si potea più inanzi per le troppe male vie che verano, sì si misero a ritornare il loro paese. E sappiate che li cristiani sono assai migliore gente per arme che non sono i saracini. E questo si fue negli anni domini 1288. Da che v'abbiamo detta questa novella, diròvi della vita di quegli da basce. La vita loro si è di riso e di latte e di carne, e sì hanno le ofanti. Non che gli vi nascaro, ma vengonvi d'altre paesi. Nasconvi molte giraffe e molte altre bestie. E si hanno molte bellissime galline, e si hanno istruzzoli grandi quasi come asini. E si hanno molte altre cose, che a volerle tutte contare sarebbe troppa lunga mena. Cacciagione e uccellagioni si hanno assai, e si hanno pappagalli bellissimi e di più fatte, e si hanno gatti mamoni e i scimmie assai. Avete inteso da bascia. Vovi dire della parte D'Aden. Capitolo 190 Della provincia D'Aden La provincia D'Aden si ha uno signore che è chiamato Soldano, e sono tutti saracini, i quali adorano Malcometto, e sono grandi nemici dei cristiani. In questa provincia si ha molte cittadi e molte castella, ed è porto dove tutte le navi d'India capitano con loro mercatantie, che sono molte. Ed in questo porto caricano gli mercatanti loro mercatantie, e mettole in barche piccole, e passano giù per uno fiume sette giornate, e poscia le traggoro delle barche e caricale in su camelli, e vanno trenta giornate per terra. E poscia trovano lo mare d'Alexandra, e per quello mare ne vanno le genti infino in Alexandra, e per questo modo e via si hanno gli saracini d'Alessandra, lo pepe ed altri spezieri e di verso Aden. E dal porto d'Aden si partono le navi, e ritorna si cariche d'altre mercatantie, e riportale per l'isole d'India. E si recano gli mercatanti da questo porto medesimo molti belli destrieri, e menali per l'isole d'India. E sappiate che uno buono e un bello cavallo, si vende bene in India cento marchi d'ariento. E sappiate che lo soldano d'Aden si ha una grandissima rendita delle gabelle che egli si ha di queste navi e delle mercatantie. E per questa rendita che egli si ha così grande, si è egli uno ricchissimo signore di grandi del mondo. E sappiate che quando il soldano di Babilona venne sopra ad Acri e ad Oste, lo soldano d'Aden gli fece aiuto trentamila cavalieri e quarantamila cammelli. E sappiate che questo aiuto non fece egli per bene che egli li volesse, ma solo per lo grande male che degli vole a cristiani, che al soldano di Babilona non volle egli anche bene. Ora vi lascerò a dire d'Aden e diròvi di una grandissima città la quale si è chiamata Escher, nella quale si ha uno picciolo re. Escher si è una grande città ed è di lungi dal porto d'Aden quattrocento miglia ed è sottoposta ad uno conte lo quale si è sotto il soldano d'Aden e si ha molte castella sotto sé e si mantiene bene ragione e giustizia e sono saracini i quali adorano Malcometto e si ci ha porto molto buono al quale si capitano molte navi le quali vengono dell'India con molte mercatantie e portane di buoni cavalli da due selle. Qui si ha molti datteri, riso hanno poco, biada vi viene d'altronde assai e si hanno pesci assai ma si hanno tonni molti che per uno viniziano si avrebbe due grandi tonni. Vino si fanno di riso e di zucchero e di datteri e si vi dico che egli si hanno montoni che non hanno orecchi né foro ma colà dove debbero essere gli orecchi si hanno due cornetti e sono bestie piccole e belli. E sappiate che danno a buoi da camelli e da montoni e da ronzini piccoli a mangiare pesci e questa si è la vivanda che danno alle loro bestie e questo è per cagioni che in loro contrada si non ha erba perciò che ella si è la più secca contrada che sia al mondo e li pesci di che si pascono queste bestie si si pigliano di marzo ed aprile e di maggio in si grande quantità che è una maraviglia e seccagli e ripongogli per tutto l'anno e così li danno a loro bestie. Verità de si è che le bestie loro vi sono sia vezze che così vivi come gli escono dell'acqua si li mangiano Ancora vi dico che egli si hanno di molti buoni pesci e fannone biscotto che egli tolgono questi pesci e tagliali a pezzuoli quasi d'una libra il pezzo e poscia si li appiccano e fannoli seccare al sole e quando sono secchi si li ripongono e così li si mangiano tutto l'anno come biscotto. Qui si nasce l'oncenso in grande quantità e fassine molto grande mercatantia. Altro non ci ha da ricordare Partimoci di questa città ed andiamo verso la città Dufar. Capitolo 192 Della città Dufar Dufar si è una grande e bella città ed è di lungi da Escher 500 miglia ed è verso Maestro. E sono saracini ed hanno per signore uno conte e sono sotto il reame d'Aden ed hanno anche porto e sono quasi al modo di questa di sopra di mercatantie. Diròvi in che modo si fa l'oncenso. Sappiate che sono certi albori nei quali albori si si fa certe intaccature e per quelle tacche si esce gocciole le quali si asodano e questo si è l'oncenso. Ancora per lo molto grande caldo che v'è si nasce in questi cotali albori certe galle di gomme lo quale si è anche incenso. Di questo incenso e di cavagli che vengono da rabbia e vanno in India si si fa grandissima mercatantia. Ora vi voglio contare del golfo di Kalatu e come sta e che cittade ella si è. Capitolo 193 della città di Kalatu Kalatu si è una grande città ed è dentro dal golfo che si chiama Kalatu ed è di lungi da Dufar 600 miglia verso Maestro ed è una nobile città sopra il mare e tutti sono saracini che adorano Malcometto. Qui non ha biada ma per lo buono porto che hai sì vi capitano molte navi le quali vi ne recano assai della biada e dell'altre cose. La città si è posta in sulla bocca del golfo di Kalatu sì che vi dico che ver'una nave non vi vuote né passare né uscire sansa la volontà di questa città. Partimoci di qui ed andiamo ad una città la quale si chiama Curmoso di lungi da Kalatu 300 miglia tra Maestro e Tramontano ma chi si partisse da Kalatu e tenesse tra Maestro e Ponente anderebbe 500 miglia e poi troverebbe la città da Quixi. Udirete della città di Curmoso dove noi arrivamo. Capitolo 194 della città di Curmoso Curmoso si è una grande città la quale si è posta in sul mare ed è fatta quasi come quella di sopra. In questa città si ha grandissimo caldo che appena vi si puote campare se non che gli si hanno ordinate ventiere le quali recano lo vento alle loro case né altrimenti non vi camperebbono. Non vi voglio dire di questa città più nulla però che ci converrà tornare qui e dalla ritornata vi diremo tutti i fatti che noi lasciamo. Diròvi della grande Turchia dove noi entramo. Capitolo 195 della grande Turchia Turchia si ha un'oreca nome Kaidu lo quale si è nepote del grande cane che fu figliuolo ad uno suo fratello cugino. Questi sono tartari uomini valentri d'arme perché sempre e mai i stanno in guerra ed in brighe. Questa grande Turchia si è verso maestro quando l'uomo si parte da Curmoso e passa per lo fiume di Gion e dura di verso tramontano infino alle terre del grande cane. Sappiate che tra Kaidu e lo grande cane si ha grandissima guerra perché Kaidu si vorrebbe conquistare parte delle terre del Katai e dei Mangi ma lo grande cane si vuole che lo seguiti sì come fanno gli altri che tengono terra da lui. Questi sì non vuole fare perché non si fida e perciò sono estate tra loro molte battaglie. E sì fa questo re Kaidu bene centomila cavalieri e più volte ha i sconfittoli cavalieri e i baroni del grande cane perciò che questo re Kaidu si è molto prode dell'arme egli e sua gente. Ora sappiate che questo re Kaidu si avea una sua figliuola la quale si era chiamata in tartaresco ai giarne cioè viene a dire il latino lucente luna questa donzella si era sì forte che non si trovava persona che vincere la potesse diver'una pruova. Lo re suo padre si la volle maritare quella disse che mai non si mariterebbe se ella non trovasse alcuno gentile uomo che la vincesse di forza o d'altra pruova. Lo re si l'avea privilegiata che della si potesse maritare alla sua volontade. Quando la donzella ebbe questo dal re si ne fue molto allegra ed allora si mandò dicendo per tutte le contrade che se alcuno gentile uomo fosse che si volesse provare con la figliuola dello re Kaidu si andasse là a sua corte sappiendo che quale fosse quegli che la vincesse la donzella si lottorebbe per suo marito. Quando la novella fu esaputa per ogni parte ed ecco ti venire molti gentili uomini alla corte del re. Ora fu ordinata la pruova in questo modo. Nella mastra sala del palagio si era lo re e la reina con molti cavalieri e con molte donne e con molte donzelle ed ecco venire la donzella tutta sola vestita di una cotta di zendado molto acconcia. La donzella si era molto bella e bene fatta di tutte bellezze. Ora convenia che si levasse il donzello lo quale si volesse provare con lei a questi patti come io vi dirò che se il donzello la vincesse la donzella lo dovea prendere e torrelo per suo marito ed egli dovea avere lei per sua moglie e se cosa fosse che la donzella vincesse l'uomo si convenia che l'uomo desse a lei cento cavagli ed in questo modo si avea la donna già guadagnati ben diecimila cavagli e sappiate che questo non era maraviglia che questa donzella era sì bene fatta e sì informata che la parea pure una giocantessa. ora vera venuto uno donzello lo quale era figliuolo del re di Pumar per provarsi con questa donzella e menò seco molto bella e nobole e compagnia e sì menò mille cavagli per mettere alla prova ma il cuore li stava molto franco di vincere e di ciò li parea essere troppo bene sicuro e questo fu nel tempo del 1280 quando lo re Kaidu vide venire questo donzello Sine fue molto allegro e molto desiderava in suo cuore che questo donzello la vincesse perciò che egli si era un bello giovane e figliuolo di uno grande re ed allora si fece pregare la figliuola che ella si dovesse lasciare vincere a costui ed ella si rispuose e disse sappiate padre che per veruna cosa di mondo non farei altro che diritto e ragione or eccoti la donzella entrata nella sala alla pruova tutta la gente che i stava a vedere pregavano che desse a perdere alla donzella a ciò che così bella coppia fossero accompagnati insieme e sappiate che questo donzello si era forte e prode e non trovava uomo che lo vincesse né che si potesse colui che egli non lo vincesse d'ogni pruova ora si vennero la donzella e il donzello alle prese e furonsi presi insieme alle braccia e fecero una molto bella incominciata ma poco durò che il donzello si convenne pure che perdesse la pruova allora si levò in sulla sala lo maggiore duolo del mondo perché questo donzello avea così perduto che era uno di più belli uomini che vi fosse anche venuto che mai fosse veduto e da lotta si ebbe la donzella questi mille cavagli questo donzello si partio ed andossine molto vergognoso in sua contrada e vo che sappiate che lo re caidu si menò questa sua figliuola in più battaglie e quando ella era alle battaglie ella si gittava tra li nemici si fieramente che non era cavaliere si ardito né si forte che ella non il pigliasse per forza e menavalo via e facea molte prodesse d'arme or lasciamo di questa matera e udirete d'una battaglia la quale si fue tra lo re caidu ed argo figliuolo de lo re abaga signore del levante